Doppio incidente mortale nel tardo pomeriggio a Pietrasanta. Un'auto è finita contro un albero sulla via Sarzanese nella zona del cimitero. A bordo c'erano un uomo e una donna che sono stati estratti dalla vettura ad alcuni passanti. Purtroppo la donna è deceduta mentre l'uomo è stato trasportato poi in codice rosso per un problema ad un arto con l'elicottero Pegaso a Pisa. Sono intervenute le ambulanze della misericordia di Marina di Pietrasanta, della cruce bianca di Querceta e per i rilievi carabinieri oltre i vigili del fuoco in quanto l'auto ha preso anche fuoco. Uno scontro tra auto e moto si è verificato all'incrocio tra via Aurelia Nord e via Ponte Nuovo a Pietrasanta. Anche in questo caso hanno avuto la peggio una donna ed un uomo sposati. La donna è deceduta mentre il marito è stato trasportato per dinamica maggiore in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Versilia. È intervenuta un'ambulanza infermieristica oltre l'automedica. Per i rilievi in questo caso sono intervenuti i vigili urbani di Pietrasanta. Grazie.